Sì, più che un accordo è una proposta. Noi sottoponiamo a tutte le società e associazioni sportive di Palermo che magari non hanno le opportunità che il Palermo Calcio riesce a avere grazie ai tifosi e grazie alla visibilità che il calcio ottiene di essere supportate in uno sviluppo del merchandising e di tante ulteriori opportunità che potranno esserci. Abbiamo già sviluppato quello che può essere un gadget, uno zaino, una tazza, tutto quello che naturalmente può dare appartenenza a un logo, a dei colori, a un nome. Quindi la nostra città, il rosa nero e l'Aquila che rappresenta Palermo. Siamo aquile, credo che sia questo il messaggio condiviso, veramente condiviso dall'amministrazione comunale di Palermo che oggi, diciamo in qualche modo, mette a battesimo la prima adessione a questo progetto del Presidente Mirri e delle Aquile rosa-nero. Mette al centro della nostra attenzione l'adessione, pensate, dello sport forse meno ricco d'Italia, che è l'American Football, che però sta vivendo una stagione straordinaria di successi e che aderisce, l'American Football, il calcio americano, al calcio italiano. Aderisce per mandare un messaggio di grande costruzione di una comunità sportiva che costituisce l'orgoglio oggi di questa città. Quindi grazie al Palermo che adesso non è più soltanto Palermo, ma è Palermo dei tanti Palermi che fanno sport. Grazie a tutti.